Allora, la preparazione con la sepi con i piselli può essere una preparazione tradizionale quindi sia con o la polpa di pomodoro o con i pomodorini freschi oppure addirittura se qualcuno piace quella versione bianca senza pomodoro. Io metterò la passata di pomodoro visto che avevo quella e non avevo i pomodori freschi. Allora, adesso vi dico le quantità. I piselli sono 500 grammi, le seppioline sono un chilo, già lavate, pulite e sistemate. Questo qua è praticamente lo scalogno, brodo vegetale già fatto, un pizzico di sale, 4 cucchiai di olio di oliva e poi io ci metterò anche il timo. Adesso faccio soffriggere un attimo quindi lo scalogno con l'olio, poi andrò a mettere le seppioline con l'aggiunta del brodo e poi andranno per ultimo i piselli. Ok. Ok. Ecco qua, un'attivazione di sale e sette con timo e il pizzico di cina. Ok. 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 Grazie a tutti.